Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la cheesecake alla frutta. La nostra ricetta è veramente veloce, golosa ed estiva. Ma cos'è una cheesecake? Quali sono le sue prime notizie? Si parla già di torta al formaggio circa nel 776 a.C. quando i greci fecero le prime olimpiadi. Infatti agli atleti, prima di giocare, veniva data questa torta che era fatta di formaggio di pecora e miele proprio per le sue proprietà altamente energetiche. Quando i romani andarono a conquistare la Grecia qualche secolo più tardi presero la ricetta e in breve tempo divenne virale, cioè si espansi tutta l'Europa. Da qui venne modificata in tanti modi, per esempio i romani aggiunsero le uova e altri tipi di formaggio ma arrivò in America solamente qualche secolo dopo. Circa nel 1982, qui un produttore lattiero caseario chiamato James Craft cercò di ricreare il formaggio francese Noeuf Châtel però il suo tentativo fa lì e creò la cosiddetta crema al formaggio che successivamente ribattesò a Philadelphia, un ingrediente fondamentale per creare la cheesecake. Da qui deriva la comune attribuzione di questo dolce americano che ha fatto negli anni uno dei piatti tipici della sua tradizione. Bene, oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la nostra versione. Per la base della nostra ricetta ci serviranno una base di pan di spagna, per chi non avesse visto il video del nostro pan di spagna altissimo può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 130 grammi di fragole fresche e un cucchiaio di zucchero. Per prima cosa prendiamo un contenitore più capiente, ci mettiamo le fragole e lo zucchero poi frulliamo il tutto finché non diventerà una crema. Ora lo mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Poi prendiamo una teglia con un anello richiudibile senza fondo di 20 cm di diametro la andiamo a ricoprire con della pellicola alimentare trasparente a contatto proprio in questo modo chiudiamo il tutto con un elastico come sta facendo la mia mamma andiamo lungo il modo tiriamo per bene la pellicola e poi la giriamo questa parte sarà la base della nostra teglia poi prendiamo una base e la mettiamo sotto la nostra teglia in questo modo riusciremo a spostarla e prenderla poi mettiamo un foglio di acetato lungo tutto il gordo della nostra teglia aggiungiamo sulla base il nostro pan di spagna lo facciamo aderire ben bene alla superficie sottostante e lo andiamo a bagnare con la nostra crema di fragole dopo aver livellato per bene la nostra crema di frago mettiamo la nostra teglia a riposare nel frigo fino al momento del bisogno per la crema della nostra torta ci serviranno 500 g di formaggio filadelfia 400 g di yogurt magro 125 g di zucchero a velo vanigliato e 20 g di cola di pesce per prima cosa prendiamo una ciotolina con dell'acqua freddissima ci mettiamo dentro la nostra cola di pesce e la riusciamo a 10 minuti da mollo per prima cosa prendiamo una ciotola bella capiente ci mettiamo dentro il mascarpone e lo zucchero e li mescoliamo per bene finché non diventeranno un composto omogeneo fatto ciò aggiungiamo lo yogurt e continuiamo a mescolare per bene ora mettiamo da parte fino al momento del bisogno passati 10 minuti prendiamo la nostra cola di pesce la mettiamo dentro un pentolino insieme a un pochino d'acqua giusto qualche cucchiaio poi mettiamo il nostro pentolino sul fuoco e lasciamo la nostra cola di pesce affondere a fuoco molto lento mi raccomando non dobbiamo raggiungere l'ebollizione quando la nostra cola di pesce sarà fredda la aggiungiamo alla nostra crema di mascarpone e mescoliamo per bene aiutandoci con le fruste elettriche per completare la nostra torta abbiamo scelto anche della frutta fresca tra cui mirtilli, fragole, chi vuoi lamponi e more finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta e noi abbiamo cominciato tagliando un pochino di frutta che andiamo ad attaccare sul nostro acetato attaccato al pan di spagna dopo aver messo la frutta a poella iniziamo ad aggiungere la nostra crema vi ricordiamo di adagiare molto delicatamente la crema di livellarla per bene e di non far cadere la frutta mi raccomando bisogna andare con molta delicatezza a questo punto possiamo aggiungere della frutta sopra la nostra crema la spingiamo leggermente verso l'interno come sta facendo la mia mamma e quando avremo finito di fare questa azione continuiamo ad aggiungere la nostra crema ora riempiamo la nostra torta con tutta la crema che è rimasta ovviamente la lisciamo per bene ora che abbiamo lisciato per bene tutta la crema prendiamo la nostra frutta e la mettiamo metà dentro e metà fuori nel senso che metà deve stare dentro la crema e metà invece si deve vedere quando avremo finito di fare questa operazione andiamo a coprire la nostra teglia con dell'altra pellicola alimentare trasparente e la lasciamo riposare nel frigo dalle 6 ore oppure molto meglio tutta la notte e dopo una notte di riposo in frigo possiamo togliere l'anello quindi la teglia poi andiamo a rimuovere anche l'acetato ora nella parte dove non avevamo messo la frutta aggiungiamo della frutta fresca come più ci pare e piace ma guardate com'è venuta bene la nostra torta ragazzi e noi volevamo farvi vedere anche come si presenta all'interno bene ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta ragazzi questa torta è veramente buonissima è leggera, fresca, estiva i sapori sono molto equilibrati la crema allo yogurt che abbiamo fatto è veramente buona zuccherata al punto giusto il pan di spagna si scioglie letteralmente in bocca e le fragole le vanno a dare quel qualcosa in più infine la frutta va a completare tutta la nostra torta aggiungendo un gusto acidulo veramente straordinario questa torta è veramente buonissima ragazzi assolutamente da provare ok ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata ciao ragazzi mi raccomando attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su instagram come è il mondo di Aaron e Giannino grazie a tutti grazie a tutti